Il Ministero del Turismo ha approvato 58 progetti definitivi che coinvolgono oltre 250 comuni in 16 regioni nell'ambito del fondo da 75 milioni per la valorizzazione dei siti patrimonio Unesco. Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei progetti da parte dei comuni per la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale nonché di itinerari turistici, attività di marketing ed eventi, opere di carattere edilizio, strutturale, impiantistico o allestimenti su siti culturali. Saranno realizzati oltre 470 interventi. Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sottolinea come il fondo sia un importante strumento per potenziare uno dei fiori all'occhiello dell'ecosistema turistico italiano. Con oltre 142 milioni di presenze e una spesa superiore ai 12 miliardi di euro, il settore culturale è un vero e proprio traino per il comparto. E non potrebbe essere altrimenti, considerando i 59 siti patrimonio dell'umanità UNESCO e i 495 borghi certificati. In questo modo si rafforza il supporto al tessuto territoriale italiano e si dà continuità alle azioni messe in campo per la valorizzazione dei territori.